Oggi mi trovo in via Mazzini siamo esattamente al primo piano e questo è un appartamentino molto accogliente carino Questa è una casa tipica degli anni sessanta è stata mantenuta in ordine gli arredi sono nuovi e ha un'ottima esposizione ad ovest Il riscaldamento è centralizzato con il contacalorie quindi con il calcolo dei consumi e le spese condominiali sono veramente contenute La posizione interna e l'esposizione ad ovest di questo appartamentino fa sì che sia molto luminoso, tranquillo e molto confortevole E se vuoi saperne di più clicca qui sotto oppure visita il nostro sito